Allora, Andrea, qual è la parrocchia più bella del mondo? Quella nostra. San Paolo della Croce. San Paolo della Croce. E che si fa in parrocchia? Si gioca, si mette in ciamese, si fa il catechismo, si fa la messa e giochiamo. Ho capito. E lui è il tuo parroco? Come si chiama? Don Gabriele. Io non sono il parroco, siamo una comunità religiosa, noi abitiamo dentro il palazzo da tanti anni, quindi collaboriamo con la parrocchia, ma abbiamo la nostra cappellina, la nostra casa all'interno del quarto piano dei servizi del palazzo. Di quale l'otto? Il primo, di Reduzzi.